Sindacati, partiti politici, associazioni ambientaliste e semplici cittadini, tutti chiedono la stessa cosa, misure contro il distesto idrogeologico. Il giorno dopo l'enorme quantità di pioggia che ha letteralmente travolto Catania, la tregua del meteo lascia spazio alla rabbia. Dopo la seconda vittima accertata a seguito di questa ondata eccezionale di maltempo, un uomo di 53 anni travolto dall'acqua e annegato sotto la sua auto ieri nei pressi della rotonda per la zona di San Paolo, a Gravina di Catania. Per la giornata di oggi la protezione civile ha stabilito per la provincia di Catania un'allerta arancione, per la prima volta più lieve rispetto alla rossa dei giorni scorsi. E così è cominciata la ricerca dei responsabili. Di chi è la colpa se un'intera città cede sotto la spinta dell'acqua? Certo è che ci sono fatti incontestabili. Il canale di Gronda è incompiuto da decenni, gli sbocchi dei tombini perennemente ostruiti, l'urbanizzazione selvaggia a nord del capoluogo etneo senza una pianificazione metropolitana. Che le piogge siano state eccezionali però nessuno lo contesta. In poche ore è caduta la quantità di acqua che di solito viene giù in un anno intero. Le scuole sono rimaste chiuse anche oggi, mentre gli hub vaccinali hanno ripreso la propria attività dopo che i medici responsabili hanno verificato la sussistenza delle condizioni di sicurezza. Il maltempo però non è finito e potrebbe tornare già giovedì.